Una partita del Felegara, siamo con il mister Cassini, una partita del Felegara che come gioco e come tenuta della palla è stata nettamente superiore al Bardi, anche se a mio avviso le occasioni da gol più nitide sia nel primo tempo che le due nel secondo tempo le avute il Bardi, la reazione specialmente con l'ingresso di Dell'Indati che è stato l'unico che in pratica è riuscito a tirare in porta, io l'ho vista così, tu cosa mi sai dire Cass? Io l'ho vista che sono d'accordo sul processo palla, perché penso sia lampante il fatto che il processo palla abbiamo avuto minimo il 70% di noi, loro probabilmente erano tutti di tono, non lo so, comunque noi andavamo di più e abbiamo più palla, abbiamo sbagliato secondo me il primo tempo nella parte realitativa, nel senso che abbiamo mancato di aggressività sotto porta, nel secondo tempo loro hanno avuto più occasioni di noi in contropiede specialmente, poi siamo riusciti a raddrizzarla, pensavamo di averla vinta e abbiamo preso due gol di testa, come si capita spesso perché abbiamo perso la parte 5-3, non mi prego la parte che mi sembrava, cioè io ero lontano, però mi sembrava nettamente in fuorigioco quello che ha appoggiato la palla, perché fallo sul portiere non credo, però poi il resto, almeno dalla mia posizione sembrava nettamente in fuorigioco. Sinceramente anche a me, però l'arbitro è quello e ci teniamo quello come noi, i giocatori di terza categoria, c'è l'arbitro di terza categoria, mi sembrava anche a me fuorigioco, è andata così. Comunque è il solito calcio, sono andati giù 5 contro 2, hanno sbagliato due volte il 2-0, contropiede, rigore netto perché era assolutamente netto, e così una partita 2-2 che forse vista da fuori, cioè, penso che se... dal punto di vista si vede, si, brucia immagino perché, cioè, pareggiare al 94esimo, e poi aveva fitto recuperato un minuto in più, però considerando come era andata Bardi, il calcio fine delle volte è incredibile, ok, ti ringrazio, ok, ci vedi su internet, ciao, ciao, ciao.